Degrado, abbandono, un cumulo di siringhe, rifiuti, tombini scoperti, erba alta. È il ritratto della pista ciclabile che collega l'area periferica del cementificio di Pescara al suo lungomare. Inaugurata pochi anni fa anche grazie al contributo della Fater e che oggi versa in uno stato irriconoscibile. La denuncia arriva dai rappresentanti del centrodestra. Qui praticamente abbiamo una rappresentazione plastica della disattenzione e della lontananza che è questa amministrazione centrosinistra nei confronti di un patrimonio importante cittadino. Parliamo di una pista ciclabile che la giunta provinciale a me preseduta ha voluto realizzare e che il comune dovrebbe manutenere e che non ci riesce. Vediamo siringhe, bottiglie, bivacco durante la giornata e quindi io mi auguro che il sindaco prontamente intervenga per bonificare questa zona, manutenerla oppure chiuderla perché qui non può esserci un passaggio quotidiano di bimbi, di anziani perché c'è anche un'emergenza molto molto pericolosa. Spetta il comune di Pescara la manutenzione dell'area, pensata per collegare un lungo tratto e creare verde pubblico. Oggi invece il ritratto è impietoso e drammatico. Per troppo tempo abbiamo sentito un mantra che era quello di Alessandrini del Vecchio che dicevano noi riqualificheremo le periferie, avremo più attenzione alle periferie. Oggi l'impressione è che il centro cittadino sia in uno stato di degrado come le periferie che vediamo oggi in uno stato di degrado abissale. Quindi vogliamo accendere questo faro per far capire alla città intanto che cosa questa giunta sta facendo su determinati argomenti. Chiede il centrodestra che si provveda immediatamente alla manutenzione per l'incolumità dei cittadini e soprattutto dei bambini. Noi qui chiediamo più che una riqualificazione urgentemente una manutenzione che a nostro giudizio è fondamentale sia per ridare decoro a questa zona che è una comunque delle zone, una zona bellissima costeggia a lungo fiume ma soprattutto perché oggi come oggi a nostro giudizio c'è una grave emergenza sanitaria in questo luogo perché è pieno purtroppo di nostri ragazzi che vengono qui nelle ore più disparate non c'è alcun tipo di controllo e abbiamo potuto notare dai vari sopralluoghi che abbiamo fatto che anche i cittadini passano per recarsi, insomma per fare una passeggiata o per andare al lavoro e questo per noi, se al nostro giudizio, è molto pericoloso. Grazie 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 Grazie